Il rapporto di tenere evidentemente conto del ruolo che le regioni hanno concretamente, considerato appunto che non è stata modificata la Costituzione. Ci sono delle competenze precise per quanto riguarda ad esempio la sanità, altre competenze in altre materie. Si tratta di rivedere anche alcuni strumenti che sono stati adottati in passato. Penso per la sanità al patto per la salute, è chiaro che va rivisto in funzione dei cambiamenti, ma anche di obiettivi che non sono stati centrati. Quindi quello che mi sento di suggerire in questa fase è che la fase di avvio avvenca con un forte coinvolgimento da parte di tutte le istituzioni. Quando parliamo di Stato parliamo di regioni, parliamo di comuni, parliamo di provincia, città metropolitane. Bisogna per forza di cose recuperare questo rapporto che diventa fondamentale per governare il Paese.